Dopo un lungo viaggio per arrivare qua su Odaira, devo dire che ci siamo trovati subito benissimo, visto che ci eravamo stati qua anche l'anno scorso per la tournée estiva. Qui sono tutti davvero molto accoglienti e delle persone bellissime, quindi ci siamo trovati subito bene, a nostro agio. Abbiamo qua del tempo per prepararci per la prima partita, che sarà il 22 settembre, contro la Namibia. Sicuramente in questo primo match dovremo dare tutto, dare il nostro massimo e mostrare subito il nostro livello. Quindi altre intensità, gioco veloce e soprattutto fisicità.